Salve a tutti, qui da Sayus Web Radio, siamo al SuperSanto di Pensa, con noi Omar, della band del Progetto Alea, e Omar, ciao, volete un pochino di confetti della band, Francesco, ha fatto il classico, il gruppo di famiglia, il recimo, il gruppo di famiglia, il gruppo di famiglia, il gruppo di famiglia, di famiglia, anche a casa, dalle produrge, anche il gruppo di famiglia, è una produzione della band, e un po' il contratto quello che ha detto nel Perfetto, esistente dal 2009, un film senza disgrupper, si è preso proprio questo, si è preso l'immagine che c'è qualche campo, un film senza disgrupper, si è preso 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 un film senza disgrupper. C'è, prendono delle fontelle, di cui si vede molto, di cose belle, parliamo da un rock al canto ucranico, alcuni ci dicono folk, folk rock, però secondo me sono un piatto che devo contarsi magari per il cinema. Perfetto, esatto. E non vi ho chiesto dove venite? Da Bologna, siamo un po' sparpagliati. Sparpagliati, sì. Perfetto, non mi siamo venuti da Bologna Sud, ed è un monte? No, io sì, siciliano. Sei in Torinazio, lui è l'unica bolognese, va a fare più lo sanno. Manca la Sardegna e siamo un po'. Perfetto, lo cerchiamo. Dio un po', quindi il repartore, mi hai già spiegato, un cantante, un band, un gruppo, alcuni ispirati, anche storico, eh? No, almeno, io devo dire i miei, però come gruppo non abbiamo un regalo. Un riferimento, diciamo, dei suoi sposi, da cui c'è la sua magliettara classica, poi sicuramente c'è anche un po' di perfetto di flusso, lui ascolta tutto, lotto, dalla classica, all'allarme della macchina, perfetto? La tantezza di novanti Avete il sito web? Si Si chiamano www.progettoalea.it Progetto ALEA è tutto da capo? Si esatto Grazie a voi ragazzi, vi auguro un bocca al lupo Grazie a voi Se lo sto pensando, ma anche prima Potete seguire su www.segmail.com Questo video Se la trasmette insieme ad altri Per le altre interviste Sul sito Il brand Visionarlo definitivamente per un periodo di tempo Cerca di pubblicizzare quando ci possiamo E non ci presentano gli altri Gli altri è meno presentati Loro Cosa dicono? Ciao Stefania Stefania Polonia Francesco Siciliano Grazie 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 Grazie